musica 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 no comunque si oh hai visto jazz close 3? non è che si chiami jazz close 3 però è fatto da sviluppatori di jazz close 2 eeeh dovrebbe essere jazz close 3 però c'è un altro nome come c'è un altro nome? come si chiama? non si chiama jazz close 3 però più o meno è simile a jazz close 2 con eeeh quindi interessante altri kamikaze vai proizzo hanno dato delle news ufficiali un trader credo occhio ci sparano non lo so dopo te lo faccio vedere comunque abbastanza interessante si chiama scout 2 no 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 veramente c'è un trader dopo te lo dico ok adesso pensiamo far fuori questa mandria di mostri si è sempre questo egitto egitto magni di mostri egitto no 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 sirsit e sempre è questo spese gli altri siti e seme sono varie orientazioni in modo mandia dei mostri sarà più o meno simile l'originalità fatta ma è un buon gioco non c'è nulla contro il sito ricordo ma che cazzo dov'è? guarda! ahahahah ma porca vedi cos'è perchè odio il giochi ma dai mai cittadino lo questo arrivare addosso per poter ma c'è stica aiutare i movimenti non aiutare la mia ma nei movimenti aiuta si cazzo il suo già visuale così e continuare a me lo sul mondo no 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 oggi sentire a dietro di me perché ti può essere un brutto preso aiutare aiuto che che cazzo il giro torre che era colpo tipo toros doppiamento. ma basta mio solo me ritardo di teoretti sembrava brio quando era clicciato oltre clicciato di scuola trasportava grazie addio e ma basta che con il fatto pari che continuo volare con questo punto dove dove c'è anche un po' e cazzo in guardare che si sdoppiava non ci credo tutte sello tutte noi le vecchia per il silenzio e dai tipo crini che si è chissato però crini sasto fiat si usa tecnica usata una volta una volta si è rivelata inutile perchè soppiando si è di mezzo la forza già lui è forte quanto un fagiolo si ma sto tolva imparato da crini sedere no veramente in teoria la tecnica originale di giugno vado un buon e dai tutto è tutto colpa di junio adesso fori se fortissimo e come sono fortissima oggi le mille munizioni di miglior che bisognava da questa parte ma se la cosa mi sa che prima di entrare là dentro credo che dovrò un prendere un po' di armatura perchè credo ci sia qualche tipo di sì ho già visto acqua che ci sono un bel po' di mostri e poi prendere qualcosa prima che arrivino no credo di averli già attivati e andando lì avarcando la soglia per vedere che cazzo c'era guarda tre manca la visuale quando la roba di lol lì il champ no il coso ho scoperto come farla fuori dobbiamo trovare il c4 allora cerchiamolo dobbiamo una bella area così così vasta così ricca di di contenuti dov'è dov'è? eccola la eccola la no ca**la però che ore sono no voi sai dove non vogliamo tirare troppo per le lunghe ma sono passati neanche 20 minuti oh vabbè non sono posto eh sbaglio vedo un altro polipop si lo vedo anch'io tranquillo pruizzi io mi nascondo tu lo fai fuori eccoci quattro eccoci quattro trovato pruista non trovi niente cavolo vado rallentatore ho sprecato tipo 100 munizioni mini hanno visto la mia mira col joystick doveva? eccola la eccola la e bam mori polipop però polipop però faccio fuori io stupidi cosi stupidi razzi che cazzo è quello che usa più corpo a corpo nei giochi in prima persona ora e fatto subito l'attaccimento cazzo c'è un po' di pop non per un po' mi è arrivato davanti un cle cle che è ucciso no non è che mi ha ucciso ma a circa guarda quanto son bravo a mia ne ho preso incredibile però ancora vivo c'è prezzi belle che ti dà un sacco di mira assistita il joyped eh no a me non me ne dà più la mira assistita eh sei sicuro di averla attivata no l'ho tolta e che sfida esco la mia assistita scusa dai certo che ce l'ho ce l'hanno tutti oh no un altro polipop però ma no dovrebbe essere quello di prima che ancora non è schiattato faccio vedere no è un altro strega di merda quello che vuole tutto l'olendo dottore l'olendo dottore no arriva un altro polipop però in il mio cilio il cle cle mi ha ucciso occhio occhio buoni crepi a ma cosa fa il c'è 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 guarda che c'è un'armatura un'armatura io ce l'avevo l'armatura il sport il posto un'altezza l'altezza abito inizierò per prima di tutto attiverò ma vi assistite il video è meglio direi di spiegare dove cazzo sei mila automatica ma è attivata attivato l'indicatore mori 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 se è stato file attivato adesso mori ah ah qua ci muoio qua ci muoio 5 4 1 0 mi sembrava stato anche di così bravo a mirare ebbè con la mira assistita tutta facile fruizzi vorrei vedere ho trovato il cecchino lancio granate vaffanbana dov'è 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 geni da me lo trovi oh no 20s the problem trovo troppi razzi io trovo troppi segreti tipo che non 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 allora io mori il di bastare ci serve per forza e le cose aiuto no 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 ma tipo ce n'ho due contro di amore pari o io io so tranquillo grazie grazie mi servirebbe la mano in alto in ciascola una fosse un scritto il archetto ho fatto fuori la slender man sicuramente non riesco prendere a tutta colpa dell'elicottero ecco di 4 e ciò ma l'altro slender 4 corrompace del pio assistito se sta fermo magari e che cazzo è la madonna dove sei muori che ha 18 di vita sono ancora vivo ok eppure succhiato hai avuto sto camattina tecnopoli però che ci mancherebbe e boom fatto fuori dov'è dov'è slender man nella ma mi sa che il posto è qui erano neanche arrivano altri una volta che ho trovato il corso cavolo non ma il bambini ragazzi che vanno da soli vieni qua muori l'acqua l'acqua dentro un mini tempio tipo mini tempio perché i raggi non arrivano le persone o le cose e gli oggetti vediamo qual è il mini tempio e che cristo un arachnoid oh finalmente te sei crepato cazzo muori dai via il collo proprio no aspetta io non ti faccio fuori così merda che bello che avere la mira assistita tipo come come sminchiare la difficoltà del gioco ho visto la balena gigante dietro la montagna ho paura che venga qua oh ma continuano a spawnare questo è il pro io vorrei capire dove cazzo bisogna eeeh via la testa ora ah dimenticavo questa cosa qua esplosiva non l'ho dimenticato intanto mi porto via la testa ahahah che bello ah ah ma guarda qua ah dove questo non c'era nato troppo bello dove? la dove trovare anch'io intanto mi sto raccogliendo bel po' di robe dovresti venire di qua perchè è pieno di armatura tipo e anche da me c'è un po' di roba da prendere vuoi vedere che è la balena di sabbia qui il boss eh oh 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 temo di si cioè non ne ho idea per tutti temiamo di si cavolo ma proprio lo tembiamo tipo da cosa? il terzo episodio si eh ma tipo cosa è rimasto da far fuori? la navicella l'abbiamo fatta fuori cioè forse ho visto dove bisogna andare si aspetta io prima devo trovare il mio a meno che stai arrivati di qua eh perchè non ne ho idea dove sei te? 340 metri waterproof no ma sono così distante mi sta proprio che ho trovato il post dove andare io non ho trovato ne ancora lancia granate credo si vedo un tempio in lontananza ma non so se noi siamo arrivati da qua no 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 non stai andando oh cazzo cosa succede? io sento tremare io arrivo la balena ne sono sicuro no pruiz no dove stai andando? stai tornando indietro no no qui c'è un power up però l'abbiamo ancora preso sicuro che sto tornando indietro si te stai tornando indietro e noi dobbiamo andare avanti è vero c'era giro ahahah io 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 mentre ti aspetto ma di in cerca del lancia granate over power perché qualcosa lo voglio distrutto brava distruzione di battlefield tipo quanti c4 c5 se non ho neanche provato battlefield 4 beta a proposito vabbè ma non ti sei perso praticamente niente c'era il riso preso tutto io non ho non è vero eh non è che fosse tanto quella beta epica è baggata come quella del 3 ovviamente c'era da aspettarselo ma tu hai giocato hai provato su ps3 o pc no pc pc mi andava mi andava ti andava si comunque pruizzo dov'è il lancia granate dimmelo allora fammi ragionare un attimo intanto riprendo il mini gancho dai dov'è il lancia granate allora seguimi segui il grande pruizzo tipo che corre così tipo ferro ah eccolo qua te c'è il mirino il tuo lancia granate si perchè il mio no eh perchè non sei pruizzo mi spiace ma anche ma anche simone c'è un mirino il lancia granate perchè io no perchè tu sei isac ma dannati lancia granate cinesi aspetta modo per cazzo di qua dritto di qua dobbiamo andare sempre dritto in pratica sperando che non spawnino altri nemici cioè no non succederà mai esercito tranquillo non siamo su sirius sam esercito 3 adesso c'è una specie di canyon bello ma è stato che ci siamo sempre meno sabbia è vero non so se essere contento un po' di armature un po' di roba non so se essere contento di questa cosa oppure no ma stai tranquillo tanto i nemici non so eh mica tanto ecco che pareva quattro f ah ah ahia grazie pruriz hai messo il fuoco amico per caso ops eh visto che prima tu mi hai fatto fuori volevo vendicarmi in qualche modo aah aah aiuto aah davvero c'è il fuoco amico prima mi hai fatto fuori te vorrei ricordarti eh ma pensavo non ci fosse nella cooperativa c'è sempre stato iserc ma possiamo fare una prova cioè non so vediamo eh no non adesso e che cazzo è no non c'è il fuoco amico ti ho sparato due colpi di devastator perchè chiamarlo lancia granate è troppo mentale o ci sarà il dano forse ci sono danno esplosivo amico ciao lo so prima mi hai fatto fuori in unica ma oddio l'ira c'è troppo c'è troppa gente c'è troppa gente a direi nel gioco che c'è c'è dimmi un gioco tipo call of duty c'è troppa gente eccolo vai mi mancava altre pare si passa il mini canno for culo tutti e tutto e bomba c'è solo le cose c4 in combattimento averci d posto io ancora buona c'è c'era una cassa rossa prima c'è un giuseppe simone là in fondo lo vedo peso di mira che figata però l'unica cosa che adorerei avere su un mouse e la vibrazione se dicono che ci siano alcuni mouse con la vibrazione però cioè dovrebbe essere scomodi perchè pericolo 300 miliardi di funghi ascherosi multiplo alle mani ma il problema dei mouse è che se vi bravo se diventi più preciso perchè ti vi bravo tutto quanto il mouse effetti magico o' la prova erina da così il corpo morto quanti colpi o loll'acqua in sono tanti tutto questo tutto morizio. la testa con 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 la roba assi rialzato come non trovi la testa qualcosa è confondere la testa no non è non trovo il tasto il tasto b il tasto rosso no per me c'è come salti scusa con pizzeria nel salto con le tasto di salta le p ora ti scarpe i conti che è deve essere il paradiso dei cleclecle questo per me all'inferno ma no però anche per ora visto mini gun che c'è il mondo il mini aeo sul devastato ora quante teste da tagliare a peccato che pruizzo non vuole tagliarla no no si va direttamente al mini gun poi gta insegna c'è il mini gun sul 5 se c'è almeno le armi sono davvero poche però di quello che dicevano le mini sono praticamente un cazzo sono davvero poche a c'è nessun di più in pratica sul la sua apre asmi che la sandersa comunque più armi non ce ne so 33 si è vero che c5 ci puoi mettere i sentitori così ma alla fine non è che siamo una cosa neanche abbiamo un problema si io dovremmo aprire lo zoo con tutti questi nemici cavolo io scappo civili scappo anch'io ci vediamo ciao aspetta no dai ora ora seriamente io ho fatto frappalle volanti e meccanoidi da in fondo non so che cazzo far fuori lo so che altro spara che ma che cazzo c'è su quello più distante cremo per prima questa cosa c'è la con me io non so c'è la con me guarda là ora c'è una cosa occhio a quello occhio a quello che c'è col più p ma che quello c'è col più p ho visto energetiche spara libera azze c4 tutto no ma la aia cosa quello che c'è col più overpower e non ho più niente aia mi ha colpito un'altra volta in pieno solo fu uscire dal salto la doppia e vai c'è quel boh non so occhio aiuto aiuto aspetta guarda guarda come farli fuori guarda vieni qua vieni qua usa la mano la mano la mano veloce veloce la mano la mano bruizzo non me la fai prendere non me la fai prendere veloce arrivo ah si è surriscaldata vai eeeh vai eeeh eeeh anche sull'altro vai 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 te la traccia mente cavolo si si adatt orca puttano preso non muore te vuoi muori qua veloce provis cose sull'incaldato aspetta c'è arrabbiata leggermente lascia no dobbiamo lasciare insieme 3 2 per lo sei ha dato se sei scuola ma che cavalli veloce 3 2 1 via no dobbiamo caricarlo 3 2 1 no mi ha lasciato me aiuto aspetta che si scalda ora ahahah aiuto ma ci tira indietro cavolo dai vai buona oh finalmente bella la testa vero oddio ciao ciao il cuore in testa tipo autopsia da uno di quei cosi ossia la isa no sorge un simulator su quei cosi tipo rimpiazza la testa si butto dentro il cervello credo che lì ci sia la fine del livello ma il problema che lì non c'erì questo mi ricorda da un'arena del primo del primo hai giocato al primo si ho iniziato a giocare al primo wow dovevamo giocare insieme dovevamo farci una serie troia oh no 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 posso piavano uccelli è stato facile uccelli d'assalto vieni a me che non ho bello proprio a non si tratta perché quando li colpisci loro si abbassano proprio ma non sono tanto un problema ci abbiamo abbiamo portato di peggio esteliva a caso soltanto però ma fanculo ah ah dai 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 carica valutazione o dietro marita fuori anche te cara tutto ok figli si si tranquillo tutto a posto mi sa che si che la dentro finisce il livello guarda è una bella entrata alla alla non ho un aspetta bell'entrata all'inverbi spiritus avevi lasciato un verbi studio assi quel giochino oh che bello no porca vacca venite a livella per le altre ci sentiamo alla prossima parte di sirius aspetta abbiamo fatto tipo 40 miliardi di milioni di uccisioni però è stata è stato divertente giocare in allegriglie ciao a tutti ragazzi ciao alla prossima o la prossima parte non sarà tra due mesi sarà precisamente quando non per dire ma io carico in fretta le parti non come prunes che ci mette 40 mesi fra tre anni eh quindi ci vediamo alla prossima parte precisamente non so quanto ciao a tutti ciao 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 Grazie a tutti.